Ciao ragazzi, bentornati negli annunci E oggi è stata effettuata la mia prima diretta, molto di prova, molto beta su Twitch Purtroppo non sono riuscito a farla su YouTube per problemi vari Quindi ho dovuto utilizzare l'altra piattaforma Sostanzialmente si è lavorato a dell'arte, ho realizzato i miei badge Come li guardo, se mi volto di qua, li vedo Mamma mia che belli, mi piace soprattutto questo qua di Amazon E anche questo qua, arcobaleno in alto, è molto bello E quindi niente, adesso sul mio canale troverete da qualche parte anche il canale Twitch E poi mi organizzerò meglio per darvi le notizie quando su Twitch, quando su YouTube Probabilmente più su YouTube o Twitch è stato un caso E noi ci vediamo alla prossima, arrivederci Ciao Ciao